cari follower benvenuti ben ritrovati sul canale di tv serie 80 io sono il vostro tiger x e oggi vi faccio un nuovo unboxing un acquisto che ho fatto presso lo store yamato shop però prima di farvi vedere il cofanetto che ho comprato vi faccio una breve descrizione di questo cartone robotico allora vi dico che è uscito nel 1981 in giappone e sulla sulla rete tokyo tv poi successivamente nel 1982 a proda in italia su canale 5 questo anime è composto da 26 episodi ed vi dico che è molto molto bello allora vi faccio vedere subito di che cosa si tratta vediamo spero di dirlo giusto si chiama go 3 mito serie anime robotico degli anni 80 per la prima volta in dvd distribuito da yamato shop una serie questa serie tv come vedete era chiusa in questo speciale box a tiratura limitata purtroppo non è numerato però vi dico che all'interno ci sono veramente cose ghiotte un booklet ci sono cinque dvd più un disco dvd e che racchiude lo av the time e stranger e adesso guardiamo insieme e il contenuto allora lo apro per la prima volta insieme a voi quindi vediamo un po cosa racchiude questo box vi ricordo che questo anime è disponibile solamente al momento presso lo store yamato shop un attimo ragazzi che faccio lo scartaggio ecco qua allora si presenta con questo fogliettino posteriore che vi illustra il contenuto della scatola quindi i dischi pull booklet guardate veramente veramente interessante poi vi faccio vedere il cofanetto in altro go triniton la scritta il sottotitolo sengoku ma jin go shogun questo è il retro del box veramente veramente bello quindi vi faccio vedere anche bello bello ragazzi bello andiamo a vedere il contenuto allora andiamo a vedere questo bellissimo booklet guardate bello molto bello adesso vi faccio vedere anche l'interno guardate tutti i disegni dei personaggi eh come sono stati disegnati quindi le caricature faccio vedere velocemente il contenuto ci sono anche delle scene come vedete sotto le illustrazioni e fumetti e le immagini del cartone animato andiamo avanti poi qua iniziano la trama di ogni singolo episodio quindi vi ricordo che sono 26 episodi 5 dvd più un dvd contenente l'ovv adesso vi faccio vedere ancora qualche pagina però io dico vi consiglio di acquistarlo eh veramente veramente una figata pazzesca andiamo avanti andiamo a vedere dopo la descrizione di ogni episodio cosa c'è ecco delle altre immagini disegni disegni dell'anime e alla fine delle immagini delle immagini del cartone spero che voi vediate bene faccio ecco ok bene e questo è il booklet poi andiamo a vedere l'interno questo è l'ovv quindi questo è a parte questo box singolo che contiene l'ovv in un dvd guardate molto molto bello eh è bellissimo guardate guardate anche il retro della copertina questo è la costina cosiddetto go nitro go go nitro qua bello bello andiamo a vedere l'interno special special goshogun vedete c'è la ragazza molto molto guardate come è fatto bene il dvd e questo è l'ovv e questo invece è il box contenente tutta la serie quindi sono cinque dischi ventisei episodi guardate go trimiton vi ricordo si chiama go trimiton acquistarlo dove potrete acquistarlo solo su Yamato shop guardiamo anche l'interno ecco qui questo è l'interno del dvd c'è del box bellissimo ragazzi bellissimo ve lo consiglio poi guardate guardate questo ma è proprio proprio bello anche le immagini le immagini della copertina fronte e retro di questo bellissimo box di questo cofanetto vi ricordo a tiratura limitata poi andiamo avanti ecco qui ecco qui ecco qui a voi vi faccio vedere e abbiamo finito quindi abbiamo facciamo un ripilogo del contenuto di questa di questo box adesso ve lo faccio vedere abbiamo la scatola contenente queste magnifiche chicche il dvd contenente l'oav della durata di 90 minuti il il booklet fantastico booklet contenente i fumetti disegnati dei personaggi più l'elenco di tutti gli episodi dei 26 episodi con la trama e il box e il box contenente i cinque dischi dell'anime robotica ok spero che questo unboxing vi sia stato di gradimento che vi sia piaciuto quindi mettete un bel mi piace sotto al video e per ulteriori informazioni potete contattarmi vi ricordo iscrivetevi al canale di youtube tv serie 80 mettetevi anche un bel mi piace su facebook per questo unboxing è tutto ci vediamo il prossimo mese ciao ragazzi dal vostro tiger x ciao